Come segnalato nei mesi scorsi, resta assai problematica l'introduzione del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, il cosiddetto SISTRI, previsto in sostituzione dei registri per lo smaltimento dei rifiuti a partire dal prossimo 1 gennaio. Dispositivi USB che non funzionano, black box dei trasportatori non ancora tutte installate, software che devono essere perfezionati. Insomma, i motivi per la richiesta di una proroga per l'avvio del SISTRI sono molteplici. Su queste basi, Confartigianato Vicenza ha chiesto uno slittamento dei termini e in particolare la sospensione delle sanzioni per 12 mesi. Ricorda ancora le imprese che l'associazione è a loro disposizione come unica alternativa per la gestione del registro informatizzato dei rifiuti.